Le primarie del centro-sinistra in Puglia, la vittoria della partecipazione. E' questo il commento di Mino Borracino, assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia. Il risultato delle elezioni primarie in Puglia è positivo. Il fatto che hanno votato 80.000 persone sfidando il freddo e l'umidità, pagando almeno un euro, conferma la voglia di partecipazione ancora forte nell'elettorato di centro-sinistra. D'altra parte non è proponibile il confronto con le precedenti primarie del 2014 con 134.000 partecipanti. Non fosse altro che per il fatto che allora tutte le forze che si riconoscevano nel centro-sinistra parteciparono, mentre in questa occasione alcuni pezzi che pure si richiamano a quell'area hanno dichiarato apertamente di non essere interessate alla competizione. Noi tuttavia, prosegue Borracino, rimaniamo convinti che libertà e partecipazione, come abbiamo avuto modo di scrivere. Anzi, per dirla tutta, sempre con Giorgio Gaber, la libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. Libertà non è uno spazio libero, libertà e partecipazione. Il secondo dato che emerge con chiarezza è la vittoria netta del presidente Emiliano, pur in presenza di ben quattro candidature, ciascuna delle quali portatrice di sensibilità politiche qualificate e responsabili. Mentre il risultato della partecipazione al voto a Taranto Città non appare soddisfacente, più importante è stata la partecipazione nel resto della provincia. E dentro questo quadro la vittoria di Emiliano è stata chiara ovunque, con punte di eccellenza in alcuni comuni, come la terza con 941 voti, Massafra 584 e Pulsano 701, dove la sensibilizzazione al voto per il presidente è stata fatta in solitudine da articolo 1, ottenendo un importantissimo risultato, il 95% dei consensi su 741 votanti. Adesso ci toccherà, conclude Borracino, fare un'analisi particolareggiata di tutto il quadro che emerge dalle primarie per coprire le aree che non si sono sufficientemente mobilitate, capirne le ragioni ed intervenire. Questo perché, archiviato il risultato positivo, occorre ora pensare subito alle secondarie, cioè alle elezioni regionali vere e proprie che si avvicinano. Tutti, nessuno escluso, sono chiamati a fare la loro parte per non dilapidare quanto realizzato in 15 anni di centrosinistra e per non consegnare la Puglia alla destra.